Vediamo, allora, guarda dal telefono se va tutto, ma direi che ci siamo. Hai condiviso link Urbi e Torbi? Assolutamente, bene, allora dimmi quando siamo pronti. Siamo già pronti, se ci sentono, ci vedono, aspetta che non ho messo il cellulare, da qualche parte l'avrò lasciato, ah l'ho lasciato lì, adesso lo prendo. Ragazzi, benvenuti intanto nei canali, diciamo, Slami per questo piccolo talk sindacale dei nostri con Serena. Oggi il topic è particolarmente importante, nel senso che andiamo a discutere quello che è capitato al concorso per l'accesso alla formazione specifica in medicina generale. Un qualcosa di abbastanza... Io credo uno dei risultati, forse il risultato, non lo so, non saprei fare, però da quando bavico io i corsi e i concorsi, devo dire, forse un risultato, io un risultato così non l'avevo mai visto. No. Sicuramente è stata un'ecatombe. Allora, io intanto sto continuando a mandare un ascolino di notifiche perché ce l'avevo in questo... È stata un'ecatombe veramente a livello nazionale, non è che ti dici magari c'è stata una regione, piuttosto che un'altra che ha avuto dei problemi, no, un'ecatombe a livello generale. Esatto. Vogliamo andare nel dettaglio dei numeri o vogliamo raccontarla? No, no, andiamo nel dettaglio dei numeri. Andiamo nel dettaglio dei numeri. Allora, è chiaro che regione è regione, ogni regione ha delle distinzioni, delle differenze, però quello che è emerso è fondamentalmente quello che io, Serena, abbiamo già disquisito abbondantemente sui canali, abbiamo già disquisito abbondantemente negli incontri professionali, cioè che c'è un problema sostanziale con questo benedetto ruolo unico per come è stato declinato. Cioè, ruolo unico significa la fusione delle attività dei medici classicamente definiti di famiglia con quelli classicamente definiti di continuità assistenziale guardia medica. Questo assetto ha terrorizzato ovviamente i giovani. Perché? Perché la prospettiva di avere quei rapporti ottimali definiti nell'accordo collettivo nazionale, quindi dovendo fare sia il medico di famiglia sia il medico di guardia medica, fino a 70 anni, andando a lavorare la notte, i festivi, i prefestivi, avendo una miscellanea di numero di pazienti in carico e di ore di attività, è insostenibile. Anche perché ti faccio una premessa, non è solo lavorare la notte, i festivi, i prefestivi, è la complementarietà, perché ad oggi scelta e orario vanno in complementarietà. Quindi diciamo che il medico di assistenza primaria del ciclo di scelta lavora nei feriali, se così possiamo dire, poi la notte e i festivi c'è la quota oraria della continuità assistenziale. Quindi nel momento in cui tu li metti assieme, non è che dici lavoro la notte o il sabato e la domenica, piuttosto che lavorare il giovedì e il mercoledì. No, no, lavoro il giovedì e il mercoledì e anche la domenica, quindi praticamente uno lavora sempre. E ovviamente, siccome probabilmente qualcuno ha pensato che tutti i giovani fossero dei cretini e non si rendessero conto che se uno va a fare il calcolo, per cui uno a 1200, quindi un posto ogni 1200 abitanti, più un posto ogni 5000, quindi la somma del rapporto ottimale della medicina di famiglia rinnovato, no? E la somma del rapporto ottimale della continuità assistenziale, si va verso uno scenario, se fosse così applicato, di circa un medico con 987 in regione Emilia Romagna, cioè nelle stime fatte anche con l'intelligenza artificiale che ha aiutato a fare un po' lo speed up del processo, si va ad avere comunque un numero di scelte che non è da massimalista e che comporta conseguentemente, per tutti coloro che prendono la convenzione e iniziano nel 2025, di avere anche 24 ore, fondamentalmente quasi 24 ore di incarico. 24 ore di incarico che non è scritto, definito come, dove, quando, cosa, ma che sicuramente devono adempiere alla risposta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E questo è un grosso problema, perché ovviamente anche se tu vai a ridurre, invece di avere la continuità assistenziale come ce l'hai oggi, c'hai un H16 piuttosto che altre modalità, comunque rimangono i festivi, i prefestivi, e rimane sostanzialmente un'organizzazione del lavoro impossibile, anche per un altro motivo, che è il fatto che la densità dei medici di famiglia viene, scusate, dei medici del ruolo unico, a differenza, diciamo, della precedente organizzazione, è legata alla densità abitativa, per cui tu ti trovi in una città, prendiamo Bologna che è la nostra, con tantissimi incarichi pubblicati nella città, perché li pubblichi secondo il numero di pazienti, mi dici a cui devi dare anche le ore, ma le ore, che cosa gli fai fare a tutta sta gente con le ore in città? Esatto. Diventi matto a fargli fare le ore in città, perché tu avresti un quantitativo di ore oggi concentrato sulla alta densità abitativa, e poi invece sulla zona montana, penninica, rurale, eccetera, eccetera, ti trovi ad avere meno zone. E ovviamente questo è uno dei temi cui evidentemente chi ha pensato questa genialata non ha ben riflettuto, perché se tu vai a creare questo problema, che oggi non avevi, perché oggi le ore erano separate dai pazienti, e quindi tu potevi distribuire le ore in funzione dei bisogni e non eri legato alla densità abitativa, no? Quindi un caos comunque l'andiamo ad analizzare, cioè comunque la gira e la gira diventa un caos inenarrabile. Anche perché non è pensabile, cioè già se tu non dovesse mettere insieme le orari della scelta e le orari della quota oraria nello stesso comune, nello stesso luogo, ma non è che puoi pretendere che qualcuno faccia l'ambulatorio a Bologna Centro, puoi chiudere l'ambulatorio e va a Porretta a fare la guardia medica, quantomeno obbligato, perché se uno per scelta, come è stato fino adesso, se uno per scelta lo vuole fare, se la senti di fare, ha tutto il diritto di farlo, però da un punto di vista obbligatorio... questo è un enorme problema. Quindi andando nel concreto, i risultati, adesso io ne ho letti alcuni di varie regioni, allora Emilia Romagna, così partiamo subito dalla nostra, abbiamo avuto 230 candidati che si sono presentati al concorso per iniziare la formazione da medico di medicina generale a fronte di 230 per 210 posti. Quindi leggermente sopra. Ovviamente però buona parte di tutti questi colleghi sono ospedalieri in fuga dall'ospedale o con l'idea della fuga dall'ospedale. Ora, se considerate che negli anni scorsi abbiamo scorso fino alla 7-8 centesima posizione, voi vi fate già un'idea delle cattombe del disastro che sarà poi la popolosità reale del corso. Perché un conto è andare a fare la prova selettiva, un conto che poi a questo punto selettiva non è perché entri a domanda di fatto. Esatto, perché poi va ricordato che il concorso, cioè il corso, ha sempre scorso la graduatoria tantissimo e poi non è che tu entri, è regionale, quindi tu entri, ma non è che obbligatoriamente tu entri nella tua città. Quindi io sono di Rimini, entro, entro in posizione utile, però mi dicono che tu entri al corso a Piacenza e molte persone giustamente non ce la fanno a sostenere questa cosa. Anche perché appunto nonostante tutto quello che si è fatto per rendere la formazione online, eccetera, ci sono comunque ancora dei problemi poi organizzativi della singola regione. Ma facciamo altri esempi. Regione Lombardia mi risulta, lo vado a vedere nell'elenco, che abbia avuto 279 partecipanti al concorso a fronte di 500 posti banditi. Regione Veneto ha avuto 140 partecipanti al concorso per 240 posti banditi. Va meglio in Calabria dove 54 su 55 posti banditi, quindi 54 partecipanti per 55 banditi. Voi capite che Piemonte, un'altra regione del nord, ne ha 128 di partecipanti per 168 posti banditi. Allora, già i posti erano pochi comunque da calcolo, perché ricordiamoci che la formazione specifica deve coprire medici di famiglia a ruolo unico, con la continuità assistenziale, tutto quello che vogliamo vedere, ma anche assistenza penitenziaria, emergenza sanitaria territoriale, cioè la formazione per general practitioner. E anche qua io mi chiedo se questo modello sia effettivamente coerente con il dettato costituzionale, nel senso che tu i famosi capaci, meritevoli, no? Cioè tu potresti voler diventare e fare la formazione del general practitioner per cultura, non necessariamente perché vuoi fare quella... Però vabbè, questo è un altro tema che si apre. Però il problema è che con questi numeri noi certamente non siamo in grado di organizzare e di gestire i servizi per il futuro, perché ovviamente i servizi dovranno essere garantiti e per esercitare le funzioni di medico di medicina generale in Unione Europea, quindi non solo in Italia, in Unione Europea, è necessario avere uno dei tre requisiti. O avere il diploma di formazione specifica, o essere laureato e abilitato prima del 31 dicembre 1994 e quindi essere titolare del cosiddetto diritto acquisito, quindi di un'equivalenza di fatto per entrare nell'attività, quindi in Italia per entrare nei graduatori, oppure essere iscritto al corso di formazione specifica. Questi tre requisiti sono assoluti. Allora, se noi andiamo a dire oggi con questa modalità che non copriamo neanche il corso per prendere i posti di lavoro, poi domani l'unica cosa che il sistema può fare è incaricare medici che non hanno i titoli della formazione. Ritornando a fare un passaggio indietro nel tempo di precari questioni, a meno che non ci sia finalmente l'adattamento normativo necessario per fare poi quelle che tutti si lamentano diventano le famose sanatorie. Allora, io personalmente come opinione ho che si debba fare un passo indietro, si debba tornare con i piedi per terra, smetterla di pensare che uno a tavolino studia un modello, tra l'altro un modello personalmente che ritengo stupido perché è insostenibile, è insostenibile, è insostenibile già sul breve e medio termine, non solo sul lungo, quindi bisogna smetterla di pensare che tutti si debbano adeguare a modelli che sono studiati in stanze che vivono in realtà parallele, staccate dal mondo terreno e dalla fatica reale di tutti i giorni nel fare le cure primarie, fare un passo indietro e ritornare a creare quella sinergia di ore e di pazienti su base volontaria da un lato, tenendo comunque gli incarichi potenzialmente separati. Poi ovviamente è necessario meglio regolamentare quali sono i criteri convenzionali, i criteri organizzativi dell'attività ciclo di scelta e quindi di dare una corresponsione sulla base dell'apertura degli studi, della contattabilità del medico di famiglia e di tutto quello che ne viene dietro. Ma questo mix, questa sinergia, per come la vedo io, se si porta avanti e non viene interrotto il prima possibile, comporterà la distruzione completa del sistema di cure primarie perché nessuno accetta più di lavorare in questo schifo. No, oltretutto la richiesta dei professionisti a tutti i livelli, anche gli ospedalieri, perché poi c'è questo effetto un po' effetto erba del vicino che un po' dici vabbè prova a cambiare prospettiva e setting per vedere se mi trovo meglio. Le esigenze sono sempre quelle, il professionista oggi si ritrova a dire io vivo solo per il lavoro, lavoro 250 mila ore, quindi l'ospedaliero deve fare un sacco di straordinari, il medico di assistenza primaria comunque deve lavorare molto perché stare dietro a tutti gli assistiti con tutte le esigenze cliniche, croniche, burocratiche chiede tanto, cioè se bisognava andare esattamente nella direzione opposta, cioè migliorare la qualità e ridurre la quantità, non continuare ad aumentare la quantità, perché sennò uno non ce la fa e la qualità sicuramente ne risente, sicuramente. Esatto, e poi c'è il problema del mix di popolazione professionale che agisce in questo senso. Il mix di popolazione professionale è importante, noi abbiamo una popolazione professionale che oggi è per la maggioranza della quota di medici al femminile e quindi ovviamente le ragazze hanno il diritto di poter gestire se vogliono fare figli, famiglia, gestire un bilancio vita-lavoro regolare. Noi non possiamo pensare che ci siano solamente le parzializzazioni del numero di scelte o del numero di ore per tempi contingentati, perché con i carichi di una popolazione di cronici come c'è adesso sono eccessive le richieste e le persone non sono in grado, i professionisti non sono in grado di soddisfarle per un numero così grande di pazienti, perché l'effetto collaterale di questa cosa, cioè noi stiamo superando la gobba della carenza assoluta numerica del numero di medici, quella la stiamo superando. Il problema è che adesso ci troviamo con una carenza che non è più da dire vocazionale, è proprio un rifiuto, è un rifiuto di fare una roba che non viene condivisa come modello di organizzazione, perché? Perché non ti consente di vivere, non ti consente di avere un bilancio con la famiglia e il lavoro. Allora bisogna assolutamente fare un passo indietro e bisogna rimodulare il contratto in modo che sia centrato sulle esigenze dei professionisti e non centrato sulle logiche che vengono discusse spesso da gente che oggi è alle soglie della pensione, perché questo è l'altro grosso problema. Cioè io vedo manifesti congressuali che pensiamo al futuro, il futuro per alcuni è la pensione, ma quelli che invece dovrebbero vedere il futuro, che oggi hanno 25, 28, 30 anni, già noi ne abbiamo di più, quindi è chiaro che non possono riconoscersi in un modello contrattuale di accordo che non va più bene, ma attenzione non è solo quello della convenzione, non va più bene nemmeno quello degli ospedalieri, della dipendenza e della dirigenza america, quindi o si fa una riflessione e si ha il coraggio di rimettere in discussione i dogmi e di superarli, oppure questo modello di assistenza non si avrà, non perché mancano i professionisti, ma perché nessuno sano di mente intende accettare condizioni organizzative e di lavoro come queste. Non è solo una questione, perché sembra che non è che è solo la forma mentis del professionista che è cambiato, perché uno pensa che, no no, è anche il setting che è cambiato, le esigenze dei pazienti, come posso dire, lo spettro della richiesta del lavoro, dove tante, adesso ci sono molto più farmaci, molte più indagini, molte possibilità, cioè sai una volta, 40 anni fa avevi meno farmaci, meno prestazioni, meno tutto, era anche, diciamo, più semplice, se posso usare questo termine virgolettato, gestire un grande numero di pazienti. Adesso con la richiesta che c'è, con le esigenze che hanno le persone, proprio il setting è completamente cambiato, non si può pensare di tenere lo stesso modello. È aumentata la complessità, è aumentato il numero di persone con situazioni complesse, quindi non è solo la complessità di per sé, ma anche il numero di richieste. È aumentata l'età, la cronicità, quindi... Quindi questo modello, signori, non va bene. Bisogna che i giovani colleghi, invece di continuare a scappare pensando che l'erba del vicino sia la migliore, comincino a capire che le attività di tipo sindacale sono importanti. Investire sulle persone che ritenete possano portare delle idee diverse e non diventare sudditi o subire decisioni che non sono condivise praticamente da nessuno. Io non mi capacito come all'interno di diverse delle organizzazioni sindacali che si sono poi trovate, c'è una maggioritaria, quindi quando firma lei purtroppo le ha CSE, ma è così per colpa di chi non sceglie di dire no e di optare per qualcosa di alternativo e di diverso. Non è colpa di chi firma, è colpa di chi non dà deleghe o sceglie di non dire niente e pensa che sia più facile passare magari ad altri settori. Allora, non è più verde l'erba del vicino. È verde l'erba che riesci a coltivare correttamente. Quindi ognuno dovrebbe pensare a migliorare il proprio panorama professionale e le proprie aspettative professionali perché viceversa, soprattutto in questo settore, non sei un'azienda privata che al massimo smette di produrre un prodotto carino che qualcuno comprava. No. Qui smetti di garantire un servizio pubblico per colpa dell'incompetenza nel riuscire a interpretare quelli che sono i bisogni da parte pubblica ma anche a una debolezza intrinseca alla componente più giovane della professione che non dà un mandato sindacale chiaro. Ok? Perché questa roba qua va risolta e nessuno mi dica che il problema è la legge Balduzzi del 2012 perché questo famoso ruolo unico ce l'avevamo anche nello scorso accordo collettivo nazionale, no? C'era già il ruolo unico. C'era già il ruolo unico ma le attività le attività del ruolo unico erano separate e così dovevano rimanere. Sì, perché erano due complementari, come diciamo, è un ruolo unico e complementare. Un ruolo unico ma complementare. E laddove era possibile ed era consentito svolgere le due attività queste venivano integrate sulla base però della reale fattibilità, non sulla base di una mannaia che ti arriva in testa e che oggi ha comportato la fuga non solo dall'attribuzione degli incarichi ma anche dalla presa di servizio nel corso di formazione per fare la formazione per entrare. Non è neanche giusto che poi il messaggio finale che arriverà di tutta questa situazione sarà la figura si è estinta perché voi non la volevate fare. Non è che i medici non la volevano fare, è che non era fattibile farla in questa condizione. Perché è facile poi, tanto facile in questi contesti, responsabilizzare chi avrebbe dovuto caricarsi di qualcosa di insostenibile dicendo tu non avevi voglia di fare. No, ma poi sai, responsabilizzare, cioè chi rappresenta sono le organizzazioni sindacali. Se i giovani medici sono troppo poco organizzati, troppo poco convinti di dare una delega a un mandato preciso, poi ovviamente si lascia che altri decidano. E mi raccomando, il principio importante è che poi la decisione la si subisce. Allora, si fa presto a uscire, a scappare, tutti parlano di essere per la sanità pubblica, per l'equità di accesso, eccetera, ma anche quel singolo comportamento alla fine produce un risultato nefasto che va, per paradosso, a negare il principio di base. Perché se noi mandiamo a carta 48 l'assistenza territoriale, il risultato è che questo piove sulla testa di tutti. No, sì, sì. Allora, si fa presto a dire che poi bisogna essere per l'assistenza pubblica, eco-universalistica, tutto quello che si vuole, quando poi alla fine non si è neanche in grado di esprimere all'interno delle organizzazioni professionali una linea precisa, dare un mandato preciso, e quando si dissente da una linea, dare un chiaro messaggio, tramite le deleghe e tramite ovviamente la protesta secondo le modalità che ovviamente nella democrazia e nella rappresentatività, in questo caso sindacale, sono date. Bene. Che dire? Direi che aspettiamo i vostri commenti, sappiamo che l'orario di questa diretta non è uno dei più facili, perché sono tutti a lavorare, ma la diretta rimane, per cui aspettiamo commenti, aspettiamo specifiche, aspettiamo vostre interazioni. Grazie e ciao. Buona giornata, ciao.